Che stai facendo? Sei una monella tu? Non vuoi giocare? No! Non vuoi giocare? Eh no, non giocare! Non giocare! Lola! Lola, che fai? Lola, che fai? Eh, sta giocando, mori, sta giocando, sono quasi arterializzati e quindi il sangue rossumico. Poi c'è il bruciore che è fortississimo e quando poi i dolori diventano molto sintomatiche si associano a tutti. Lola! Lola, che c'è? Mamma, un grida! Che non ti interessi? Lola ti interessi tu? Eh, e tu? Ti piace? No, che mi piace! Lola! Chi è? Mamma! Mamma, è la tv! Guarda, Lola va a vedere! Chi è Lola? Chi è? Chi è la porta? Chi è? Chi è la porta? Eh? Chi è la porta? Ops! No, addosso a me no! Lola, chi è la porta? Qui, chi è la porta? Vai a vedere, vai! Vai a vedere chi è la porta, vai! Scendi, vai! Monella! Ma che devi fare addosso a me così? Che devi fare? Eh, ti devi sedere a posto mio! Quello è il posto mio? Il posto tuo, anzi! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni! Bellissima! Sì, intanto, ciao, tanto perizio! Sono a Bellino, il non sole, il normale, l'uietto e i tifosi perché devo dire c'è qualcuno che è già andato a casa molto soccionato a preparare il nostro, qualcun'altro ancora è nato, vabbè non me il nostro perché insomma... Vieni qua!